Terzo incontro di animazione territoriale nell'ambito del progetto SAC Terre di Omedee dopo Minervino Murgi e Spinazzola l'appuntamento si è svolto a Bisceglie presso l'ex sepolcreto Santa Croce. Tema principale del convegno promosso dalla provincia di Barletta e Andretrani in qualità di ente capofila del progetto SAC il percorso Castelli che avrà per protagonista le città di Andria, Bisceglie e Trani. Il progetto SAC Terre di Omedee parte dalla necessità di creare un sistema tra bene di rilevante pregio culturale ed ambientale oltre alle eccellenze già espresse sul territorio provinciale al fine di rafforzare sia l'attrattività del territorio che la valorizzazione e la fruizione dello stesso. L'obiettivo dell'operazione in una logica di rete è quello di ampliare la fruizione al pubblico dei beni del patrimonio culturale oggetto del SAC avvicinando soprattutto le giovani generazioni e le categorie svantaggiate alla conoscenza degli stessi e ai relativi fatti storici delle credenze, degli usi e costumi, delle produzioni e delle tecniche costruttive. La strategia che guida l'operazione è finalizzata a stimolare la partecipazione attiva e diretta dei destinatari rendendo l'utenza protagonista del processo di conoscenza attraverso azioni mirate e diversificate. In questo modo, mediante le reti, sarà data opportuna ed uguale visibilità a tutti i beni presenti sul territorio sponsorizzando e facendo conoscere quelle realtà ancora oggi poco note, incrementando così il flusso di visitatori. Il progetto si sostanzia nell'attivazione di Scullab e visite guidate differenziati in ambiti e percorsi tematici che si svolgeranno nei dieci comuni della provincia. Ho partecipato anche quale sindaco della città di Biceglia a un percorso che è cominciato qualche mese fa coordinato dalla provincia. È stato bellissimo mettere in rete tutti i nostri beni culturali soprattutto renderli fruibili, renderli per la fruizione significa promuovere anche il turismo e questo il senso anche di questo tour che stiamo organizzando con gli uffici provinciali in ogni comune per valorizzare, per promuovere, per rapportarsi alle strutture scolastiche anche del territorio e soprattutto per mettere in rete tutte quelle istituzioni, tutti quegli enti che oggi fanno parte di un circuito di promozione e di aggregazione turistica. Non dimentichiamo che i Gall hanno firmato questi documenti, la provincia, i comuni, che la regione favorendogli IAT sta mettendo in rete in funzione turistica tutti i nostri beni culturali. Oggi sono a Biceglie, è la città del sindaco ma come presidente della provincia veramente sono contento di vedere questo impegno, dei dirigenti e soprattutto questa forte promozione del territorio, questo amore per il territorio che la provincia sta ponendo in essere in continuità con quello che ha fatto il mio predecessore.